Musica Maurizio Boeris, Sati Carpaneto, buongiorno siamo all'evento Metel, al termine dell'evento Metel ma la prima domanda è sulla vostra azienda come sta andando questo finale di 2018 e soprattutto che avete da promettere da prospettare alla nostra platea per l'inizio del 2019? Allora innanzitutto abbiamo iniziato bene l'anno è un anno che sta denotando alcuni segnali di rallentamento direi che purtroppo sono segnali di rallentamento derivanti dalla attività del nostro paese contro questo si può fare poco il nostro impegno è quotidiano noi lavoriamo sul mercato finale insieme ai nostri partner fa piacere essere all'evento Metel l'evento Metel è un qualcosa di neutrale dove vengono sempre segnate tracce importanti da seguire mi pare che sulla fatturazione elettronica che tra l'altro noi faremo con Metel mi sembra ovvio non potrei dire il contrario essendo qua si vedano più opportunità che minacce sentendo i temi che sono stati discussi stamane Bene, ma qualche promessa sui prodotti? Promessa? Noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo introdotto una nuova linea di prodotto che sono i condotti sbarra devo dire che cominciamo ad avere delle soddisfazioni è un mercato estremamente competitivo abbastanza vicino a quello che è il nostro settore tradizionale che è quello delle canalizzazioni metalliche siamo fiduciosi Grazie 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 a tutti.